Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany forse dovrei dire bentornati o benvenuti, dovrei iniziare un po' a essere una di quelle youtuber serie comunque oggi è arrivato il momento del wrap up finalmente, visto che ottobre è un mese molto importante per me è uno dei miei mesi preferiti all'anno perché c'è chi vive Halloween solo d'ottobre e io un po' lo vivo tutti i giorni della mia vita e è anche il mese del compleanno di Miss Fiction e no, non sto parlando di me in terza persona ma sto parlando del canale perché il 23 ottobre è proprio il compleanno del canale quindi insomma, visto che io sono un'accia altrona e non riesco mai a fare le cose a modo ci tengo che la programmazione di questo mese sia abbastanza consistente finalmente settembre è finito che per me vuol dire tornare alla vita e quindi non vedo l'ora di farvi vedere cosa ho pensato per questo mese partiamo con il wrap up perché mi sono già dilungata abbastanza vi racconto che cosa ho letto questo mese non ho letto tantissimo perché è già stato un miracolo riuscire ad arrivare alla fine di quello che vi sto per raccontare però direi che, insomma, mi ritengo soddisfatta perché sono state letture molto interessanti il primo libro del quale vi parlo è Come fermare il tempo di Matt High giù vi linko la mia recensione dove ve ne parlo nel dettaglio è no spoiler, quindi è spoiler free, quindi tranquilli non ci sono cose che mi vado a raccontare che mi mettono in difficoltà però volevo un attimo soffermarmi su questo libro perché davvero per me è stato il migliore del mese sicuramente è stato veramente una lettura molto bella come già dico nel video, quindi non voglio soffermarmi c'è lungo ho apprezzato tantissimo questo libro per due motivi principali il primo è il tema, quello più evidente secondo me ovvero il ragionare sul significato del tempo è quello che assume nelle nostre vite e Matt High lo fa in una maniera che io ho adorato perché lo fa in maniera molto scorrevole, ritmata, non si sofferma troppo zompa dal passato al presente continuamente in modo da darci degli esempi del passato quindi dei suoi stessi errori, cioè quelli del protagonista non dei suoi stessi di Matt High, però gli errori del protagonista che poi si ripercuotono su vicende presenti quindi come far capire che alcune cose noi dovremmo averle imparate o potremmo impararle o che si riflettono su quello che noi siamo oggi che sono un po' il risultato di tutto quello che abbiamo passato è bello vedere come sempre il protagonista pensi al passato e al futuro e non si soffermi mai su quello che sta vivendo ora e poi insomma ci sono tutte delle riflessioni proprio sul significato del nostro tempo a disposizione che ho trovato interessantissime e davvero molto valide la cosa che però mi ha fatto amare questo libro è che penso che chi soffra di ansia, depressione e comunque di disturbi mentali possa vedere anche una comprensione, un'accettazione molto profonda di quella che è questa condizione io mi ci metto in mezzo perché soffro di ansia lo dico sempre, non è una cosa della quale mi vergogno però anche il percepire il tempo come un qualcosa che è tutto tranne che un aiuto, è un qualcosa che ti opprima è un qualcosa che ti fa dilatare alcuni giorni e dall'altro ti fa sempre perennemente pensare che stai perdendo tempo quello che ti fa stare sveglio la notte perché dovresti fare cose invece non le stai facendo insomma ci sono tante riflessioni nel quale io mi sono molto rivista e che soprattutto hanno parlato di qualcosa che forse io non avrei saputo mettere a parole e vabbè diciamo che tutto il resto ve lo racconto nella recensione vi rimando giù, anzi proverò a fare questa cosa qua cioè a mettervi la scheda in sovraimpressione perché non lo faccio mai però insomma l'ho trovato un titolo veramente molto bello e molto valido poi sono davvero tanto tanto contenta di parlarvi di Here, There and Everywhere di Teresa Fabozzi edito da Abba Nero Edizioni è un titolo uscito quest'estate che io ho recuperato in realtà molto tardi finalmente però sono riuscita a dedicarmi Teresa è una ragazza che io ho conosciuto a un sacco di concerti e quindi l'idea che lei scrivesse un libro per me è stata veramente una cosa bellissima è un piacere i riferimenti culturali penso siano evidenti anche se quello che troviamo qua dentro è qualcosa secondo me di molto inaspettato è un romanzo di debutto quindi diverse questioni che secondo me le affrontiamo dopo però diciamo che si sente da un lato che è un romanzo di debutto dall'altro secondo me è un ottimo debutto è un debutto molto intelligente, molto inusuale e originalissimo voi entrate in un romanzo fantastico quella che sembra una saga al di fuori anche del tempo e dello spazio Here, There and Everywhere è suddiviso in tre parti sogno, incubo e allucinazioni e questa suddivisione vi aiuterà nel capire un po' il senso di questo libro perché quando noi lo iniziamo ci immergiamo in questa che sembra una saga fantasy un'epopea fantasy molto legata anche al folklore tradizionale è uno di quei libri dove dovete stare davvero molto attenti perché ogni azione corrisponde a qualcosa ci sono una catena di conseguenze che si susseguono una dopo l'altra proprio in questa storia che potremmo definire fantastica poi a un certo punto iniziamo ad accorgerci che tutto ciò non è quello che sembra quindi questa saga fantastica forse non è la parte più lucida del libro l'opera lucida del libro e noi iniziamo a fare un po' di connessioni i protagonisti di questo libro sono George e Emily che per sfuggire alla realtà e forse per decodificarla si immergono in un'atmosfera molto onirica che tramite quest'opera fantastica riusciranno soprattutto ad affrontare le difficoltà le loro paure più oscure e soprattutto vedranno riflesse proprio quelli che sono i meccanismi che li mettono in difficoltà non vado oltre nella trama perché ho paura di fare un sacco di spoiler e è molto facile in questo libro però devo dire che l'ho trovato un libro molto interessante io gli ho dato 4 stelline non c'è su Goodreads quindi Abba Nero provvedi tra l'altro Abba Nero ti prego non stampare mai più un libro in carattere 8 perché io ci ho perso le diottrie già sono cecata detto ciò però insomma la prima opera di Teresa secondo me è estremamente interessante prima perché è proprio la struttura inusuale è una struttura che riconduce sia il fantastico quindi questo mondo apparentemente fantasy dove noi ci immergiamo per una buonissima parte del libro e seguiamo una storia epica ma che allo stesso tempo secondo me ci dà tantissimi segnali come se dentro il nostro cervello all'inizio non fosse così chiaro e piano piano iniziamo a cogliere che tutto ciò non è quello che sembra ed è molto interessante come è svolto secondo me è molto chiara l'intenzione dentro la scrittura e dentro la prosa ho adorato anche altri due aspetti questi ve li cito perché secondo me sono molto interessanti innanzitutto ogni capitolo è dedicato a una canzone e alla fine vi si creerà una playlist questa è una cosa adorabile e conoscendo anche i gusti di Teresa è molto molto beh cioè è una playlist che io sottoscrivo detto ciò l'altro aspetto secondo me molto molto interessante del libro secondo me sono i riferimenti culturali non solo musicali nel senso che tutti i personaggi assumono una carica aggiuntiva probabilmente di significato perché ognuno di loro ha un riferimento a qualcosa ci sono personaggi che prendono il nome da autori da personaggi letterari già esistenti invece altri che prendono il nome proprio da personaggi di band George credo derivi proprio senza neanche passare dal via da George Harrison per farvi uno dei tanti esempi e invece ci sono dei personaggi che all'inizio non avevo ben colto il riferimento ma poi conosco le nostre origini ovvero siamo entrambe emiliane lei è di Modena io sono di Bologna e la nostra terra è una terra partigiana è una terra che ha una lunga tradizione ovviamente di donne partigiane di uomini partigiane e tantissime protagoniste delle quali leggerete sono ispirate da figure molto rilevanti della storia della resistenza emiliana questa è una cosa che personalmente è stato molto bello trovare e rivedere anche perché sono tutte cose che non sono così banali quindi io l'ho apprezzato tantissimo la cosa che ho apprezzato molto di come descrivono here, there and everywhere è che parlano di un libro sospeso tra sogni e realtà secondo me non è così sospeso anzi è proprio un libro che avvicina queste due dimensioni perché nella sua narrazione da un lato fantastica dall'altro però la riconduce a un qualcosa di quotidiano e di reale, di tangibile secondo me molto bene proprio mi è piaciuto tantissimo questo aspetto devo dire che non è un libro scorrevolissimo nel senso che ha due difetti il primo che vi accennavo prima è veramente un po' difficile leggere con questi punti carattere perché è un po' complesso dall'altro la storia è veramente molto intricata perché voi dovete pensare che chiaramente quando siete nella dimensione del sogno nella dimensione fantastica ogni cosa corrisponde a qualcosa e all'inizio non ci fate molto caso secondo me è difficile entrare già in quell'ottica di lettura quando iniziate a capire iniziate a ripercorrere tutto e lì è andata un po' in crisi inizialmente però devo dire che una volta fatto il salto è molto più facile andare avanti è molto più facile continuare a leggere questo è una cosa che ho colto e forse qua come primo lavoro risulta un po' complesso e forse è in questo aspetto che si nota che è un primo lavoro nel senso che è una struttura davvero molto complessa da decifrare e da decodificare inizialmente però vi devo dire che passata la fase iniziale tutto torna più chiaro tutto ci appare molto più logico e quindi risulta molto meno difficile muoversi all'interno di questo libro e di questo mondo e anzi l'ho trovato davvero un risultato molto brillante molto molto interessante mi ha fatto davvero molto piacere leggerlo e ve lo consiglio perché se volete una storia che unisca il fantasy a qualcosa di più questo è un ottimo esempio e lo trovo un debutto molto brillante molto interessante pieno di citazioni che a me parlano e a me raccontano qualcosa in più e quindi insomma se siete appassionati di musica ma non solo e volete un qualcosa che difficilmente ritroverete in altri libri in altri spunti questo è un ottimo debutto io ve lo consiglio tantissimo vi ripeto che è Here, There and Everywhere di Teresa Fabozzi edito da Banero Edizioni poi arriviamo a un libro verso il quale io provo un sentimento un po' conflittuale ma ora vi spiegherò questo è un libro che io da un lato ho apprezzato molto ma ci sono alcune cose che ancora ora devo capire decifrare e quindi sarà più una discussione insieme a voi allora sto parlando di Love and Other Curses di Michael Thomas Ford e allora ve lo racconto perché secondo me è un volume da tenere d'occhio innanzitutto chiariamo subito questo aspetto questo libro racconta la storia di Sam Sam fa parte di una famiglia che a quanto pare è perseguitato da una maledizione e questa maledizione colpisce tutti i membri della famiglia che si innamorano prima dei 17 anni e in pratica costringe i loro amati a morire a parte questo però Sam non se ne preoccupa troppo perché è un ragazzo omosessuale che vive in una piccola cittadina che quindi non gli dà grandissime opportunità ha una famiglia molto unita che lo ama davvero tanto lui vive con il padre la madre invece è scomparsa e le nonne e i nonni che sono davvero forse la parte più divertente interessante del libro e in più Sam ha un hobby segreto ovvero tutti i weekend lui lavora nel backstage di nascosti in segreto perché essendo minorenne è illegale di questo gay bar dove organizzano degli spettacoli drag e l'unica cosa che lui non riesce a dire alla famiglia non è tanto che non è gay perché lo sanno tutti ma è che è una drag anzi e che lui vorrebbe diventare una drag cosa che non gli riesce facile e mentre noi ci introduciamo nella storia di Sam le cose si complicano quando in città arriva Tom che è un ragazzo che si avvicinerà moltissimo a Sam essendo il nuovo arrivato e non avendo amici e che Sam scoprirà che è un ragazzo trans che affronta una vicenda familiare abbastanza complessa e da lì diciamo le cose non saranno mai del tutto chiare come prima questo libro vorrei dire una cosa non è la classica storia che affronta solo il tema dell'omosessualità e delle difficoltà di vivere in una piccola cittadina da omosessuale quindi da persona appartenente alla comunità LGBT perché poi non c'è solo Sam che fa parte della comunità LGBT ma c'è tutta la storia di Tom che è una storia veramente molto pesante e che secondo me è un po' da un lato il punto interessante delle varie vicende dall'altro c'è anche il rapporto che ha Sam con il mondo drag che io trovo molto bene espresso e anche interessante nelle sue dinamiche trovo che in generale il libro affronti in una maniera molto ingenua da un lato cioè come se lo vedessero proprio dei ragazzi giovani che si affacciano a queste tematiche tutto quello che fa parte della discriminazione del mondo che ti discrimina e forse anche questo curse e forse anche questa maledizione che colpisce la sua famiglia è una cosa che non è mai definita fino alla fine se sia reale o se non lo sia o se sia solo una credenza però condiziona le loro vite e comunque forse significa molto altro al di là di tutto vi dico non è solo una storia che affronta la tematica LGBT come il tema portante di tutto il libro affronta tante questioni rapporti rapporti che non sono ben definiti le difficoltà nel rapporto invece da un lato c'è il legame familiare e che cosa questo implica quando si è una famiglia così unita ma che ha alle spalle grandissime sofferenze come tutti possono saltarne fuori ogni giorno anche l'affetto che si prova la paura della perdita ci sono tante tematiche che secondo me in questo libro sono trattate davvero in una maniera che io ho apprezzato molto perché sono molto delicate ma è troppo nette nelle loro affermazioni sono tutte tematiche che vengono sempre trattate in una maniera che non sono mai aggressive non sono mai decise ma secondo me hanno quei bordi un po' indefiniti che in fondo sono la parte realistica di quello che noi viviamo tutti i giorni non sempre abbiamo tutto chiaro anzi quando mai abbiamo tutto chiaro cioè quest'ora saremmo forse tutti capitani dell'universo quando la vera difficoltà è riuscire a decodificare e a muoversi in questo mondo ci sono aspetti un po' problematici che è quello che mi ha fatto un po' stranire legati al libro il primo è il rapporto di Tom con Sam Tom è un personaggio che soffre moltissimo e che affronta una realtà familiare molto diversa da quella di Sam però allo stesso tempo è un personaggio che io non ho apprezzato per nulla perché è un personaggio che non si comporta benissimo all'interno del libro però dall'altro lato la relazione che Tom instaura con Sam anzi che Sam instaura con Tom non è proprio proprio perfetta anzi da un lato la potrei definire anche un po' forzata con relazione intendo non relazione d'amore ma relazione in generale tra questi due personaggi però da un lato ho cercato di interpretare diverse volte quelle che sono state le dinamiche problematiche all'interno del libro che non è questa l'unico l'altro è il problema che ha Sam nell'usare i pronomi quando parla alle drag io penso sia molto chiaro quando una drag è in drag si usa il pronome femminile si usa sempre riferirsi a una drag al femminile perché assume quell'identità quando si smettono i panni di drag si torna a essere persone comuni del popolo e non regine si usa tendenzialmente il pronome maschile anche se a volte c'è chi preferisce proprio l'uso del pronome femminile e invece Sam sbaglia di continuo nonostante sia anni che ha a che fare con questa comunità però vi devo dire che mentre all'inizio mi stavo anche scocciando moltissimo di questa cosa e proprio sto dicendo scusami sono anni che lavori lì dall'altro quello che ho colto come errore da parte dell'autore è forse il fuoritempo massimo cioè ha sbagliato le tempistiche nel senso che ci sta che un ragazzo abbia difficoltà perché noi impariamo insieme a Sam a usare i pronomi nel modo giusto e a usare e a sapere come rapportarsi con qualcosa che forse ci sta che uno non sappia già però Sam lavora da tanti anni in questa comunità quindi lui già dovrebbe averle assorbite questi sono insegnamenti di chi magari si avvicina a questo mondo e non ha ben chiaro come come chiamarci sta secondo me non è che tutti nasciamo imparati e informati anzi l'ho trovato molto bene espresso questo essere alle prime armi su tantissimi argomenti e non sapere come comportarsi tra l'altro anche Sam nei confronti di Tom che ha questa relazione che a me non è che sconfiffera molto però l'ho letta in chiave come stiamo parlando di ragazzi di 16 anni che sono confusi e ci sta che non abbiano chiaro tutto infatti la cosa che secondo me è super apprezzabile di questo libro è che noi abbiamo dei sedicenni che sono realmente sedicenni che non è che si comportano sempre in maniera giusta non si comportano sempre in maniera chiara e sono confusi non sanno neanche loro che cosa vogliono che cosa stanno cercando eccetera e quindi è interessante questo aspetto l'ho trovato corretto forse la riuscita a volte non è diciamo perfettamente netta cioè non prende una posizione perfettamente netta e ti lascia anche come lettore nel dubbio però l'ho trovato giusto continuo a essere un po' infastidita da alcune cose però dall'altro le sto interpretando come un avvicinarsi a determinate cose e lo sbagliare non può fare altro che insegnarti perché l'unica cosa che noi impariamo da questo libro è che per quanto ci siano dinamiche che possono non essere apprezzabili come la relazione un po' forzata come che non è una relazione cioè una relazione di amicizia che forse non è solo amicizia un po' forzata o gli sbagli nei pronomi si fa anche outing che è una cosa sbagliatissima però sono dinamiche che insegnano qualcosa a questi personaggi che non sanno neanche loro a volte cosa stanno facendo di male ma nel momento in cui sbagliano pagano imparano perché ci soffrono molto si rendono conto dell'errore si sentono in colpa io questo non posso fare altro che apprezzarlo l'ho trovato più giusto rispetto a le cose calate dall'alto che tutti sanno già tutto a 16 anni secondo me non è realistico che tutti sappiano tutto la cosa però interessante è riuscire a imparare a essere più empatici e a capire che forse non siamo rincorsi da una maledizione ma che forse dobbiamo un attimo decifrare la nostra realtà credo bellissimi anche i riferimenti culturali ragazzi ci sono allora la cosa che a me è piaciuta anche tanto questa è una cosa spoiler ma sapete che io sono super fissata con la musica ma spoiler in maniera la mamma di Sam che se n'è andata a un certo punto quando lui era piccolo gli ha lasciato una scatola con dei dischi sono sempre quelli della sua infanzia e sono da ascoltare in ordine in ogni disco c'è un bigliettino e aver visto i dischi dei Beatles aver visto i dischi di David Bowie ci sono i dischi dei Cramps ci sono i dischi dei New York Dolls ci sono i dischi ci sono un sacco di dischi preferiti ci sono i Kiss questo non si può non apprezzare secondo me questa è una cosa bellissima e se non li avete mai ascoltati provate a seguire l'ordine dei dischi se lo leggerete perché secondo me è molto interessante è molto bello è un aspetto che magari può non significare niente però lega tantissimo la musica degli stati d'animo a delle sensazioni che è un po' secondo me il mio modo di vivere la musica e il fatto di ricercare sempre in determinate canzoni o uno sfogo o l'essere compresi è bellissimo e quindi Love and Other Curse secondo me ha qualcosina di non chiarissimo una prima letta bisogna ragionarci un po' ma io ve lo consiglio molto anzi lo consiglio soprattutto a chi si sente negli stessi panni di Sam quindi che non ha nulla di chiaro e che ci sta secondo me essere confusi essere poco definiti in quello che stiamo provando e sperimentando quindi niente io gli ho dato quattro stelline e ve lo consiglio davvero tanto questo proprio mi ha stimolato nel dibattito l'ultimo libro che ho letto questo mese che in realtà non è un libro ma è una graphic novel è l'età dell'oro di Cyril Pedrosa e Roxane Moret l'avrò pronunciato giusto in francese Moret? Moret? non lo so io non parlo francese comunque a parte le gag questa è una graphic novel edita about publishing che io dovevo andare alla presentazione anche ma non sono riuscita perché ero via per lavoro sono molto triste perché mi avrebbe davvero fatto piacere non ho mai letto nulla in precedenza di Pedrosa anche se a quanto pare è bravissimo infatti voglio recuperare davvero tanti altri volumi allora vi faccio vedere qualcosa poi lo appoggio perché è veramente enorme però è allora partiamo da questo al di là della storia la cosa secondo me affascinante sono questi queste tavole hanno una bellezza e una grandiosità che io sono rimasta veramente molto affascinata soprattutto le tavole a tutta pagina quelle nel bosco quelle scure sono bellissime cioè davvero c'è una particolarità nel dettaglio una tecnica che mi ha veramente stupita i personaggi mi ricordano un po' la spada nella roccia vi sarò sincera ma tutta l'ambientazione invece è qualcosa di molto onirico ma concreto è strano mi ricorda le texture mi ricorda qualcosa di da toccare con mano sono veramente stupita in positivo per l'aspetto grafico dell'opera perché è veramente bellissima quando l'età dell'oro si apre diciamo che noi ci troviamo all'interno di una società feudale ok dove io poi ho quanticchiato in piccherano giordi per tutto l'inizio del libro perché è proprio una scena simile comunque a parte questa serie di stupidaggini che sto dicendo l'età dell'oro racconta la storia di questo re che è morto e lascia il regno alla figlia e Tilda che è proprio la figlia del re è un personaggio che vorrebbe portare le riforme pensate soprattutto per il popolo e per le condizioni in cui versa il popolo che sono veramente pessime infatti i personaggi iniziali che ci introducono ci fanno capire quanto tutto sia molto difficoltoso per chi non fa parte della nobiltà ma il fratello di Tilda non è molto d'accordo con questa sua ascesa al trono e anzi la esilierà l'ho appoggiato perché stavo facendo le braccia praticamente comunque in questo esilio Tilda si farà aiutare da due cavalieri per non solo tornare ma anche cercare di dare un senso a questo suo nuovo percorso non vado avanti se no è tutto spoiler dopo vi rovino veramente tutta la lettura che è molto sorprendente piacevole che dire io l'ho adorato davvero secondo me è un volume veramente molto bello dal punto di vista grafico come vi ho già detto ma non solo perché in fondo quello che noi vediamo in questa narrazione è un viaggio che mi ricorda tantissimo proprio la chanson francese le favole tradizionali da un lato i miti prendendo spunto da diciamo questa epopea medievale che a tratti assomiglia un po' alle grandi geste eroiche che tutti forse noi conosciamo e delle quali abbiamo sentito parlare però si trasforma in qualcosa di molto più politico molto più impegnato che ha come scopo quello di diventare una favola sociale la potremmo chiamare perché nella figura di Tilde in quello che affronta in quello che lei e i suoi compagni di viaggio devono subire vediamo tante realtà e vediamo anche delle condizioni sociali molto differenti e insomma un po' una sorta anche di incoraggiamento nel provare a cambiare le cose e questo è un tema che a me è molto caro e ho apprezzato tantissimo è un po' il alla pugna di Tilda dovrebbe essere anche il nostro davvero secondo me è stato un volume molto interessante perché ha raccontato in una forma molto tradizionale per noi molto codificata per noi temi che non sono per nulla mai stati inseriti in queste in questa modalità e a me è piaciuto ovviamente moltissimo io sono sempre interessata nel vedere dei risvolti e delle sottotrame o comunque dei messaggi anche più impegnati in questo tipo di mezzi ripeto sorretti da questi disegni bellissimi davvero meravigliosi quindi io gli ho dato 5 stelline perché secondo me è veramente valido molto bello e ve lo consiglio caldamente è ricomperso questo volume e insomma lo trovate in catalogo da Bao a 27 euro meritatissimi perché comunque ha una qualità di stampa pazzesca è un libro enorme anche bello spesso quindi io ve lo suggerisco caldamente se state puntando una graphic novel che vi intrattenga parecchio questo fa per voi niente io direi che il wrap up è finito perché ho letto solo 4 libri questo mese non ho letto di più però diciamo che almeno sono tutte cose interessanti e ne sono stracontenta fatemi sapere se qualcosa di quello che vi ho raccontato vi ha incuriosito e anzi fatemi sapere se voi questo mese avete letto qualcosa che vi è piaciuto molto così allungherò un altro po' la mia TBR come sempre invece delle premesse adesso facciamo la suite in uscita innanzitutto se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina come sempre cosa devo ripetere giù trovate tutti i link ad Amazon se volete sostenermi acquistando tramite il mio link di affiliazione i link ai miei social e in più se volete offrirmi un caffè simbolico mi aiutate a sostenere il canale direi che per oggi è tutto io spero di avervi tenuto compagnia come sempre e quindi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao